Se le decorazioni rinascimentali vi affascinano, provate le velature della linea Antiche Terre Fiorentine, appartenenti alla famiglia Le Classiche. Le velature è una pittura decorativa semitrasparente che esalta la struttura del muro. In base all'utensile utilizzato per applicarla, guanto, pennello, spugna o straccio, crea affascinanti chiaroscuri e dona alle pareti della vostra casa un effetto molto accattivante sia alla vista che al tatto. Vi sembrerà di accarezzare un soffice tessuto. Dosando la quantità di prodotto utilizzato durante l'applicazione, è possibile ottenere una gamma di colori praticamente infinita e sfumature in grado di trasformare la vostra casa in un confortevole ambiente fatto di fascino e calore. Mediamente traspirante ed ecologica, è a base di pigmenti selezionati e resine di altissima qualità tecnologica in soluzione acquosa. Viene proposta in latta da 1 litro e 250, 2 litri e mezzo e 10 litri. Per ottenere un risultato ottimale, applicare il fondo ATF bianco con una pennellessa, un rullo o a spruzzo con un apposito compressore. A seguito dell'applicazione del fondo, si potrà procedere con la stesura di levelature, miscelata a scelta, con tagli da un quarto, mezzo, uno o due toner. Procediamo con la preparazione di levelature. Versare il toner scelto nella latta di levelature, mescolando accuratamente con una spatola o con un miscelatore meccanico fino a completa omogeneità di tinta. Mediante l'utilizzo del pennello ATF Candice, di un guanto, di una spugna o di uno straccio, stendere la decorazione lavorandola a tratti alternati e incrociati, avendo cura di tirarla bene in modo da evitare accumuli. Si consiglia di procedere senza interruzioni e ripartenze, evitando così di ripassare sulla decorazione stesa in precedenza. Ed ecco le levelature! Per maggiori informazioni o dettagli sul prodotto, richiedete i cataloghi Antiche Terre Fiorentine presso i rivenditori autorizzati Candice o visitate il nostro sito internet.